L'ultima domenica è stato il festival delle occasioni mancate, neppure un successo per le tre abruzzesi nell'ultimo turno di Serie D che arrivava dopo la sosta per la Via Reggio Cup che vede la rappresentativa di Giuliano Gianni Chedda sugli scudi. Nella Vezzano, l'unica ad uscire con un punto, nell'Aquila e Chieti che invece escono battute dall'impegno, riescono a ricominciare con una vittoria che avrebbe rilanciato le quotazioni di tutte in ottica primo posto, che adesso torna a pannaggio del solo campo basso che pur avendo la trasferta più insidiosa seppellisce sotto cinque reti la Vigor Senigallia sfruttando il pari della San Benedettese. La storia anche nel girone di ritorno sembra ripetersi spesso. Le abruzzesi al momento di sferrare la zampata che si traduca in continuità e non solo nell'impresa di giornata rischiano di mancare l'appuntamento. È stato così per l'Aquila contro l'Atletico Ascoli che pur essendo ormai realtà consolidata del girone F era una formazione alla portata. Specie dopo aver conosciuto lo svantaggio, l'undici di Cappellacci grazie al gol di Angiulli aveva rimesso a posto punteggio e inerzia del match sfuggito. Quando il treplice fischio sembrava ormai dietro l'angolo, la rete al 97esimo di Cesario e la fotografia dell'incapacità di tenere il ritmo che servirebbe per conquistare il campionato. L'Aquila spesso ha fatto ottime partite condite da risultati contro le bighe altrettanto spesso si è persa nelle gare alla portata e che avrebbero dato maggiore risalto agli scontri diretti. E questo è un vulnus che per versi differenti accomuna l'Aquila anche al destino dell'Avezzano che con qualche decisione arbitrale contraria lascia due punti anche alla Riccione nonostante il doppio vantaggio. Ferazzoli dopo le dimissioni rientrate post notaresco era partito bene contro gli undici di Riolf che avrebbero probabilmente meritato di restare in inferiorità numerica e che accorciano le distanze dopo Tuncara e Verna con un rigore dubbio prima del pareggio definitivo. Un 2-2 che fa rimanere i bianco-verdi in quarta piazza mancando il possibile sorpasso proprio all'Aquila. Col notaresco a riposo forzato a causa del rinvio della gara col Fano il cerchio di una domenica negativa lo chiude il Chieti in crisi nerissima dei risultati. Nemmeno al sesto tentativo Iezo riesce a centrare il primo successo e anzi cade fragorosamente attivo lì 2-0. Da dire c'è che in teoria la zona playoff complice anche gli altri risultati non si è allontanata nemmeno di un punto ma è l'unica nota lieta dell'ennesimo pomeriggio storto De Nero Verdi alle prese anche con la questione riguardante Amet Fall in tribuna al Galli dopo le dichiarazioni post-sora. Prestazione scialba a fine gara il direttore generale Sartiano ha voluto chiarire alcune situazioni ribadendo il fatto che quello di Chieti è un progetto triennale ma è evidente che la tifoseria non ha preso affatto bene la gestione di questa parte di stagione tra cambio tecnico che finora non ha portato la svolta e una serie di risultati tutt'altro che positivi. A livello societario tornano a farsi insistenti le voci riguardanti un possibile ingresso di Attilio Di Stefano attuale presidente del Castelnuovo. Rumors parlano già di un contatto con Ettore Serra per un pacchetto consistente di quote societarie ma sono discorsi questi che troveranno probabilmente sviluppo? Se ne troveranno nei prossimi giorni nel frattempo domenica all'Angelini c'è lo scontro con l'Avezzano e nessuna delle due può mancare l'appuntamento con la vittoria. Grazie a tutti. Grazie.